Dopo l'accordo sottoscritto tra gli ex-alleati di Michele Iori dell'ADC, che hanno preannunciato il sostegno al candidato presidente del centro-sinistra, Paolo Frattura, attraverso una lista civica denominata Rialza di Molise, crescono i manumori nella sinistra storica molisana. In particolare, SEL ha convocato l'Assemblea regionale che rischia di spaccarsi, mentre i socialisti discutono al loro interno. Tacciano invece i comunisti italiani, dunque ancora una volta la sinistra rischia di dividersi alla vigilia di importanti appuntamenti elettorali. Purtroppo ci sono delle responsabilità rispetto a questa divisione. Ritengo che le ragioni di chi aveva chiesto di scontinuità andavano ascoltate, non è stato fatto e quindi c'è ancora questa diaspora a sinistra. Io mi auguro intanto che quella parte di sinistra, come dire, radicale, come viene definita normalmente, ripensi anche alla propria posizione e magari provi a fare un tentativo per riaggregarsi a quella parte di schieramento di centro-sinistra che con più trasparenza, con molta nettezza ha combattuto il sistema di Michele Iorio. Ma lei che ne pensa dell'alleanza del centro-sinistra con i moderati? Io credo che la sinistra molisana non possa stare insieme a Mastella, insieme a Patricello, insieme a forze che già a livello nazionale e a livello regionale hanno dimostrato di essere organiche al centro-destra e di condividerne naturalmente le logiche non solo politiche ma anche di gestione del potere. Sarebbe un paradosso oggi sostenere che se vincessi un centro-sinistra come si sta configurando quello intorno a Paolo Frattura, ha vinto il centro-sinistro o ha vinto la sinistra. Sarebbe la sconfitta per la sinistra e per il centro-sinistra. Lei da che parte sta? Senza mezzi termini starò dalla parte di Massimo Romano, che mi sembra l'unico che abbia fatto opposizione in questa regione in questi mesi. Ritengo che intorno a Massimo si possa costruire una lista di sinistra che rappresenti la sinistra che storicamente ha agito nel Molise. mi auguro che anche quelle forze politiche che attualmente sembrano sostenere ancora la candidatura di Paolo Frattura ci ripensino e in qualche modo entrino a far parte di questo processo di riaggregazione che proveremo a fare intorno alla candidatura di Massimo Romano.